Mettiamo gli scarponi amore? Due Alpiger? Pronti per te? Si parte! Ciao amore mio! Ed eccole! Nel passaggio della gola! E guarda che valle che si apre qui! Fantastica! Abbiamo scavalcato la forcella del Bruffione e adesso siamo nel valle del Bruffione. Bellissima! Bellissima, bellissima da morire! Va che bella! Meravigliosa! Stupenda veramente! Come si aprono le montagne qui! E' bello qui! E' tanto bello qui! Ma le marmotte che corrono! Va che roba! Caprete! E' molto forte! E' molto bello! E' molto bello! E' molto bello! l'allocchino di vivere qua ecco questo per me è il paradiso mettetemi in un posto così da vecchio ci resto ci resto per sempre ma che roba va che pace va che pace va che bello lo zecchino d'oro presenta la peppina fa il caffè alla mucina fa il caffè variante la mucina fa il caffè fa il caffè con la cioccolata poi ci mette la marmellata 4 kg di cipolle 6 quintali di fagioli ma perché ma perché 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 ci piace il vocabolario di fianco la parola meraviglia si mette la strava qui mille otto e 50 e qua si vede la tua esperienza no secondo me è sbagliato infatti ha sbagliato di passare di qua sono le rocce più vicine ciao ragazze sale qui il sentiero si nerpica verso i raghetti bruffioni vai vediamo se cagli in acqua e anche la mamma ce l'ha fatta arrivati in fondo vediamo i laghi un altro ponte guarda che bello guarda che meraviglia ragazzi che meraviglia sto lago laghi di bruffione che meraviglia che meraviglia e allora come va impressioni a caldo ma c'è nemmeno anche mio da qualche parte e allora sto passendo veramente quello no il torino per la zappa ragazzi un'esperienza in bagaglia che meraviglia c'è c'è Grazie a tutti Grazie a tutti